Anerlot Anerlot è un progetto musicale alla costante ricerca di nuove strutture e sonorità, in bilico tra l'acustico e l'elettronico, tra lo scritto ed il non scritto. Mi è sempre piaciuto definirlo come un percorso onirico siderale, dove la sostanza del sogno è infinita. Presumo di potermi definire un compositore dark ambient, ma il più delle volte è veramente difficile classificare o etichettare in genere i miei lavori. La ragione per cui dico questo è data dal fatto che nelle mie composizioni si alternano musicisti con background molto differenti tra loro. Ci sono tanti musicisti classici, chitarristi, rock, alternative rock, jazzisti, cantanti d'opera ed anche cantanti di musica tradizionale. Sono spesso ispirato dai suoni della natura, da quelli che mi circondano, dai suoni del quotidiano o da quelli che entrano a far parte della mia vita. Non sono quasi mai esplicito nell'esporre i miei concetti. Anzi, mi piace molto quando è il pubblico a trovare la propria spiegazione, i propri significati. Mi piace quando il pubblico viene ad ascoltare o vedere i miei concerti con una mentalità aperta e senza preconcetti, senza la necessità di farsi insegnare qualcosa. Anzi, mi piace molto bene. Anzi, mi piace molto bene. A volte mi piace collaborare con altri artisti, videomaker, body performer, visual artist, che spesso mi aiutano a rendere più dinamiche le mie performance. Spero di avere tante collaborazioni in futuro, ma soprattutto spero di poter condividere queste mie collaborazioni con tante tante persone e di poter portare la mia musica in tanti luoghi. Spero di avere tanti luoghi. Spero di avere tanti luoghi. Spero di avere tanti luoghi.